Vedi, Leonardo qui è Platone. E tu sei Eracli. Ti ho sentito spesso ripetere quelle sue parole. Non ci si bagna due volte nella stessa acqua di un fiume. Per me significa che a ognuno di noi sono state date occasioni uniche e non dobbiamo gettarle via. Ecco perché non dividerò con te l'onere della sistemi. L'intero breve arco della mia vita sarà contenuto tutto in questo affresco. Vedi Michelangelo, io in quest'opera tento di mostrare come le linee delle nostre vite e dei nostri mestieri si incontrino a formare una figura perfetta. Il triangolo composto da te, Leonardo e me. Grazie.